Sono nato e cresciuto nell'Ayurveda come stile di vita. Mio padre mi ha insegnato l'arte di osservare la natura con sentimento e soprattutto logica. Ayurveda ha il significato di comprendere e conoscere la vita. La cucina è una delle mie passioni più grandi. Sapori e profumi sono da ricercare con cura e amore perché sono l'essenza della nostra cura in base agli ingredienti che useremo. Il color verde smeraldo delle piante della mia terra mi ha sempre accompagnato. Ogni pianta ha un potere e un'energia incredibile che usata in una maniera corretta per ognuno di noi è formidabile. Bisogna avere una conoscenza profonda di tutto il corpo. È una macchina estremamente perfetta ma come ogni macchina va revisionata e controllata. Il massaggio deve essere benessere e ringiovanimento. Attraverso i miei corsi tutti possono conoscere l'Ayurveda. Ayur, veda. Ayur vuol dire vita. Veda, conoscenza. Quindi la conoscenza della vita.